Adesso ci colleghiamo con un giovane sacerdote, parroco nella chiesa di San Nicola di Bari a Dorsara di Puglia ed è Don Rocco Malatacca. Benvenuto o bentrovato Don Rocco? Bentrovato Anna Maria, buona domenica. Grazie, grazie a te per essere qui con noi. Ti abbiamo rintracciato anche sotto suggerimento di un'amica che abbiamo in comune, Alessandra Campanile, perché hai scritto un libro. Ed è interessante soprattutto il tema. Il tema che conosciamo bene, che abbiamo approfondito diverse volte, è quello della preghiera, ma il tuo modo di parlarne è sicuramente originale, direi moderno se vogliamo usare un termine un po' più attuale. Hai scardinato ogni idea che abbiamo della preghiera perché non deve esistere una richiesta per ottenere qualcosa. chiami i capitoli step, parli degli atei e del loro rapporto con la preghiera e di tanto altro. Diciamo che è veramente originale. Allora io ti chiedo subito, il libro è questo che ho tra le mani, Il cuore altrove, edito da San Paolo. Ti chiedo subito chi ti ha ispirato a scriverlo. Allora, l'idea di scrivere un libro sulla preghiera mi è venuto da Natale Benazzi della San Paolo che mi aveva contattato su iniziativa di Luigi Epicoco. Siccome con Luigi Epicoco siamo amici e spesse volte ci troviamo anche a chiacchierare insieme a tavola, era venuto una richiesta di parlare di spiritualità e soprattutto in un modo che potesse essere nuovo, moderno, attuale, ma che potesse prendere la preghiera che è un'esperienza che accomuna un po' tutti noi cristiani e che tutti quanti noi possiamo fare. È una richiesta che è messa ma non un po' a chiunque, ma ha bisogno anche di trovare il suo cuore. È un po' difficile forse da immaginare tutto questo, però tu dai dei consigli utilissimi, dei suggerimenti e in effetti, lo dice anche il sottotitolo, un piccolo training per chi desidera pregare. Qui ci cimentiamo tutti nella preghiera, c'è qualcuno che lo fa in compagnia, in comunità, c'è qualcuno che si isola per farlo, ma c'è un modo migliore per pregare? Tu lo svisceri poi, insomma, tutto l'aspetto nel tuo libro. Sì, fondamentalmente volevo ragionare un po' sul cuore della preghiera, perché questo era l'argomento per cui era nato. Mi sono chiesto soprattutto qual è il cuore di una persona che prega. C'è una provocazione che io metto all'inizio di un capitolo, la preghiera non esiste. Effettivamente se uno ci pensa è vero, non c'è la preghiera, c'è come un oggetto, una cosa. Per cui mi potresti dire dammi la tecnica per pregare, io me ne approprio, mi faccio il mio allenamento e poi prego. Di per sé la preghiera non esiste, c'è una persona preghiera che prega, cioè ci sono io che prego. Allora piuttosto che parlare di preghiera volevo parlare della persona che prega e quindi mi sono chiesto con che cuore io prego. Tu prima mi dicevi andare al di là del chiedere qualche cosa. Non è che chiedere sia sbagliato, però ho bisogno di capire io con che cuore chiedo, con che cuore io mi rapporto e recuperare anzitutto la preghiera come una relazione, una relazione fondamentale che mi chiede il cuore e quindi è lì che io devo stare attento, non tanto alla preghiera come un oggetto, come un'attività, forse anche un'attività nobile, però ho bisogno di essere attento a me stesso e cercare di educare, sviluppare il mio cuore per pregare. È un'azione veramente molto umana, non è tecnica e questo mi affascinava molto. Tu poni domande, poni dubbi e poi un po' quello che fanno tutti i giovani. Da sacerdote giovanissimo o quale sei sicuramente ti hanno ispirato anche i giovani a scrivere tutto questo o comunque a pensare questo. Sai tra di loro molto spesso si dice anche l'uno dell'altro dicono anche così scherzando tu un cuore non ce l'hai ma lo diciamo anche noi adulti. Tu vai alla ricerca del cuore, lo dicevi prima. Questi giovani il cuore ce l'hanno, sanno di averlo, lo devono riscoprire. A che punto sono? Anche per rapportarsi poi con Dio attraverso la preghiera. Allora, questo libro io l'ho prima vissuto. È stato un mio momento di crescita in cui ho dovuto porre una sintesi di un'esperienza vissuta e l'ho vissuta anche con i giovani, con tutti i ragazzi con cui normalmente prego insieme. L'esperienza è veramente molto bella perché i ragazzi con cui condivido l'esperienza della preghiera un cuore ce l'hanno e come. E a me ha sempre affascinato tanto perché ho visto un cuore di carne che vive e palpita per il desiderio concreto di vedere la propria vita, la propria personalità, la propria umanità venire fuori, trovare il modo di esprimersi e cercare di trovare anche le modalità di esprimersi insieme con gli altri. Per cui ogni volta che abbiamo pregato lo abbiamo fatto umanamente in maniera molto vera. Quindi poca idealità, poca teoria e molta attenzione umana. Per cui i giovani che io ho incontrato e con cui vivo insieme, con cui ho vissuto anche insieme l'esperienza della preghiera, il cuore ce l'hanno e come. Magari non si esprime allo stesso modo delle precedenti generazioni, ma non è che cambia il modo di espressione uno non ha il suo cuore. È certo che mi accorgo che oggi piuttosto dovremmo parlare di un cuore di carne, perché siamo in un'epoca particolare in cui tutta la tecnologia e il mondo virtuale che ci aiuta tanto nelle comunicazioni, dandoci delle opportunità incredibili che ci fa sentire in una grande connessione di mondo, però ci chiede anche di vivere il cuore in un modo differente. A volte c'è una forte richiesta di carne da parte del cuore giovane, cioè di carne e ossa, di concretezza, di toccare con mano anche la carne dell'umanità. I giovani con cui sono vissuto in questo ultimo periodo mi hanno proprio posto questa domanda più forte delle altre, cioè come è possibile vivere un'umanità piena, davvero in carne e ossa, che si possa toccare con mano e se la preghiera non mi aiuta in tutto questo. Bello anche questo passaggio, la voce della preghiera è la voce di un neonato senza parole, ecco perché non sappiamo realmente cosa sia la preghiera e come pregare. Questo è geniale se posso dirtelo e sottolinearlo. Siamo tutti neonati quando ci mettiamo a pregare? Mi è venuta così, meditando su il modo in cui i Vangeli mi hanno permesso di fotografare la preghiera di Gesù sulla croce. Il modo di vederlo pregare sulla croce, è chiaro che io non c'ero come non c'eri tu, non c'era nessuno di noi, ma quando l'Evangelista Marco soprattutto, e lo metto nel libro, mi propone di osservare Gesù sulla croce come un uomo che con un cuore di bambino si rivolge al padre come un bambino neonato, mi fa capire che la preghiera affonda le radici nella parte più profonda di noi. Ora noi conosciamo la nostra umanità, alle volte noi tentiamo solo di vestire i ruoli dell'adulto, mentre invece il cuore di bambino è l'aspetto più fondamentale, ma se si potesse andare a ritroso addirittura il cuore del neonato, cioè quel cuore capace di un legame carnale, profondo, autentico e verace con colui che gli sta dando la vita. E ho pensato che questo modo di pregare di Gesù aiuta noi a non crescere o mettendo e tagliando fuori una parte fondamentale di noi, della nostra umanità, che a mio avviso ci serve anche da adulti. E non è per via della crescita che noi non l'abbiamo più dentro di noi. Mi era venuto in mente, mentre scrivevo quelle pagine, la storia di tante persone che hanno una umanità scricchiolante. Sai per tutti i pesi, le difficoltà, le tristezze, la rabbia che noi certe volte maturiamo durante la vita, sembra che abbiamo tutti la carrozzeria un po' ammaccata, per cui il motore alle volte si ingolfa e facciamo difficoltà. Noi spesso ci diciamo ma richiama la tua umanità, cerca di tirare fuori un'umanità che si rimetta in moto. E io mi sono chiesto ma qual è l'umanità a fondo perduto a cui io posso attingere? Qual è questo fondo di energia continuamente rinnovabile che è dentro di me? E impattare con il modo di pregare di Gesù che arriva a tirare fuori l'esperienza neonatale, mi ha acceso una lampadina perché non ci avevo mai pensato prima, mi son detto effettivamente è un fondo perduto dentro di noi, è un'esperienza che tutti noi abbiamo avuto. Tutti noi abbiamo e continuo a rimanerci sedimentata, proprio sotto pelle. Anche se noi non ne siamo coscienti con la testa perché chiaramente non è un'esperienza che noi abbiamo fatto nell'età adulta, ma è un'esperienza che ci rimane nella carne. Quindi il modo di pregare di Gesù attinge a un fondo perduto di umanità, anche a chilometro zero, perché è la mia stessa, non devo andarla a trovare fuori. Certo. Ma io posso attingere come energia rinnovabile per me, mi posso rinnovare continuamente e quindi la preghiera è come se tirasse fuori da questo legame potente uno strato molto forte dentro di me, molto profondo, che mi aiuta anche nella vita adulta e non va dimenticato e magari ci accompagna fino alla morte. Da qui, dalla nostra chiacchierata, si intuisce che utilizzi delle belle immagini, delle belle metafore. Dobbiamo fare non soltanto il tagliando fisico, quello che si fa con l'organismo, per vedere se è tutto ok, tutto a posto, ma anche un tagliando spirituale, a proposito dei motori e delle auto, dell'immagine che tu hai utilizzato. Quindi è utile anche per questo. Siamo arrivati quasi al termine del nostro tempo, Don Rocco, però voglio chiederti di una tua preoccupazione di cui fai riferimento nello step 6. Preghiamo come se la vita non esistesse. In sintesi, pochissime parole, che cosa intendi, cosa vuol dire? In poche parole, io non so se riesco a dirlo, però provo così. È come se una donna ha un figlio, diventa mamma, la sua realtà è il figlio che le grida la sua maternità e lei invece è persa tra i bisogni che non riesce più a soddisfare perché è diventata mamma. Allora prega per riuscire a fare tutto quello che nella sua testa c'è, a prescindere dall'obbedienza alla realtà che è il figlio, il suo stato di vita che cambia, la realtà che le grida. Non puoi stare appresso il tuo planning mentale, non puoi avere le esigenze della testa, hai bisogno di tener conto della concretezza della vita che ti grida, che ascoltami. E quindi la preghiera come esperienza di ascolto della realtà. E non espressione del desiderio come Pinocchio con la fata turchina, voglio questo, esaudiscimi. Quindi è questo passaggio dalla richiesta all'ascolto. Non so se sono riuscito in poche... Sei stato chiaro e fai capire anche che pur non essendo mamma, quindi non avendo figli tuoi, conosci bene questa realtà. Quindi segno anche di vicinanza e di stretta relazione con chi ti è accanto. Questa è una bellissima cosa, una cosa molto preziosa e che non sempre si riesce a trovare. Il cuore altrove di Rocco Malatacca, di Don Rocco Malatacca, giovani sacerdote che speriamo di ritrovare in qualche altra puntata, magari per parlare di giovani o di altri suoi libri, perché ne ha scritti diversi prima di questo. Grazie Don Rocco. Grazie a te Anna Maria. Grazie. E a presto.